ciao giorgio senti mi è venuta un'idea hai tempo oggi di passare qui a casa mia con la telecamera sorpresa ti dico tutto quando sei qua ti aspetto è con queste parole che inizia l'ultimo video girato da nadia toffa il filmato è mostrato alle iene show mentre in studio 100 colleghi rendono omaggio alla conduttrice volevo intervistare le persone care amici colleghi e chiedergli cosa pensassero davvero di lei nella lista c'è ovviamente la mamma margherita la nipotina i colleghi più cari ma anche silvio berlusconi su cui dice non l'ho mai conosciuto ma avrei tante curiosità da chiedergli provo molta gratitudine per lui ha fatto partire l'elicottero per me per farmi portare subito al san raffaele quando sono stata male a trieste questo di nadia un grande desiderio che ha coinvolto tante persone che hanno voluto raccontare il loro rapporto con la iena è come congelare un istante come una fotografia di noi delle persone più importanti per me è questo il motivo che ha spinto a nadia toffa a voler aggirare il video forse quello più difficile da fare e che rappresenta il suo modo di salutare gli amici la famiglia i colleghi e le persone più importanti della sua vita quando la iena ha chiesto a giorgio romiti l'autore che più spesso ha lavorato con lei l'idea sembrava folla e mi è stato realizzato questo ultimo bellissimo video guarda il video clicca sul link in descrizione oppure sul primo commento di sintesi tv